musica 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 Ma che vuol dire che c'ho 16 anni? Un po' sapeva Fischialla perché c'ho 16 anni, ma che stai a dir? Dio un po' 16 anni. Perché devi stare là? Perché il rispetto delle religioni. Adesso... Della tua religione, non da la mia. Cosa pure stretta. Bellissima. Trecento euro. Tutto leva a sto dito. Fare la testa di casa. Che stai cazzo a chi me lo dici? Manco a mio padre me lo dici te. Quanto va perciuccio? Trenta euro. Sì, trenta. Non mi piaceva. Dammi tutto l'incasso. Voi non mi guardate. Ti stai caro? No, non mi stai caro. Ti緣i suonare di Manco Inquartà. Evertola nel? All'op benimco in qualità. Grazie a tutti